a cantare un pezzo che giustamente ha scritto lui mi fa piacere, mi passo il microfono, mi dà un libro c'è cascato, dai scherzato mi parlerà lui del pezzo che l'ha scritto quando l'ha scritto, di cosa parla, quanti minuti dura tutto il cuore no no, io sono un uomo di poche parole Paolo, 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 Paolo però di tanti lutti, sì di tanti lutti, sì ti sentirebbe Paolo ti sei alzato? no ti taglio le palle lui si può alzare il volume di bravo vai, è per Paolo vai Paolo per Burno non èピottolo ma è pato iscriviti nou no 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 dic I I G Grazie per la visione! 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 Applausi!